Il segreto per capire se una persona ha quella marcia in più per entrare nel mondo dell'ospettacolo, qual è? Beh, prima di tutto non è che a primo acchito tu puoi capire esattamente se ha delle dosi, delle capacità. Lo incontri, ci chiacchi, ci parli e piano piano capisci la tipologia di idea, dove vuole arrivare, cosa gli piace fare. Poi piano piano tiri fuori il vero artista che c'è in lui. Tutto poi con una buona preparazione, con una buona gavetta, cerchi di prepararlo e di metterlo in questo mondo.